Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse, lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me, a chi è come loro infatti appartiene al Regno dei Cieli, e dopo aver imposto loro le mani andò via di là. Essere bambini all'epoca di Gesù significava essere ultimi. L'idea che nella nostra epoca abbiamo delle fasce deboli era assente per la cultura semitica. Non era la tenerezza, ma il disprezzo e il fastidio che li accompagnava. Colpisce il fatto perché Gesù ebbe a dire, lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me, a chi è come loro infatti appartiene al Regno dei Cieli. Gesù si fa prossimo ai bambini per due motivi, per il loro essere ultimi. Infatti il Vangelo è predicato soprattutto agli ultimi, a chi cioè è scartato dalle logiche del mondo. Il secondo motivo per cui Gesù si fa prossimo ai bambini è perché essi godono della postura esistenziale più giusta per capire la logica del Regno. Un bambino non ragiona con la logica predatoria degli adulti. I bambini sono più disposti degli altri a lasciarsi stupire, ad ascoltare, affidarsi. La loro semplicità gli fa cogliere l'essenziale. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. Amen. Alleluia. Buona e santa giornata. Dio vi benedica. Buona e santa giornata. Grazie a tutti.